Oggi, mentre lavoravo i miei cavalli, pensavo a quanto la spalla indietro si confermi ogni volta a essere uno dei pilastri fondamentali dell'addestramento. Se anche a te è capitato di montare a cavallo e trovarlo rigido muscolarmente, o hai avuto la sensazione che mettesse la croppa all'interno del campo per non impegnare abbastanza i posteriori, o semplicemente vuoi migliorare il suo grado di flessibilità e regiute, beh, questo è un esercizio che non puoi assolutamente trascurare ed è importante farlo nel migliore dei modi. Per eseguire una colletta spalla indietro devi assicurarti che gli aiuti siano precisi. Per fare una chiara richiesta al cavallo, infatti, la retina interna porta la flessione verso l'interno e dà la direzione, la retina esterna fissa il contatto esposto alle spalle, la gamba interna dà il ritmo al cavallo e nello stesso tempo lo stimua a fendersi al costato. La gamba esterna funziona invece da contenimento per il cavallo, che è molto importante che non sfunga con la croppa verso l'esterno. L'errore più comune che si tende a fare nella spalla indietro è chiedere un'eccessiva flessione verso l'interno. Questo generalmente porta perdite di ritmo e una perdita di efficacia dell'esercizio stesso. Ma come puoi capire se il tuo cavallo è pronto a iniziare il lavoro su due piste con la spalla indietro? Una delle condizioni fondamentali per introdurre il cavallo a questo esercizio deve essere una chiara tendenza a portarsi in avanti. Per approfondire questo argomento, scorri la mia pagina facebook e troverai altri post che vanno più in dettaglio. Se pensi che questo video ti sia stato utile, condividilo. Ci vediamo presto nei prossimi video.